questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre ultima volta eravamo arrivati qua perfetto eccoci pronti per reactare le librerie vediamo allora l'uso ask 1493 dice solo una parte perché il resto è sparso per casa il che ci piace un mio dio ma questo c'ha tanta roba allora scusa qua devo un attimo zoomare è proprio icky tosen è davvero icky tosen poi c'hai eroica qua dietro gene x uno dei miei preferiti e qua ci sta kagizaki tanta roba i doubt le memorie di emanon zuma chi moglie di una spia climber le situazioni di lui e lei bello belle di oscar tantissima roba vedo qua dietro alita o top aspetta e forse questo sia bestiarius qua dietro o kagizaki top qua in libreria alla grande e glaucos bellissimo anche questo rainbow abbiamo capito te piace kagizaki top alla grande alzion lunch bellissimo anche questo mugirushi che cos'è il diario di una schiappa non l'ho mai letto questo è l'agiliuk bello collana supereroica eccoli qua sempre dardo oggi dardo è dappertutto e poi un sacco di topolino un sacco di topolini oddio un bel giorno decise di partire con babbo e mamma per un per un bo per qualcosa e solare dove il cielo e il tramonto si colorava di rosa dove il cielo e il tramonto si colorava di rosa bella sta cosa interessante giocavano felici accompagnati dal canto di uccellini le mamme si sedevano a fare due chiacchiere all'ombra di una pineta odorosa lontanto molto lontano 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 molto lontano dai non si sa sono intrigatissimo da questa cosa qua da questa cosa scritta sul sul mobile dacci il resto della storia voglio voglio conoscere il resto della storia bellissima bellissima comunque ottima collezione lopsided lie 5207 collezione manga da un anno e qualche mese i soldi cominciano a scarseggiare è per tutti amico mio per tutti vediamo un po allora è da un anno e qualche mese hai comprato i pezzoni comunque allora vabbè a parte sensei a qua sotto bellissimo con i volumi vecchi senza questi della granata fantastica vedo otomie bello un po di mio asano sensei alla perfect non hai preso tutto ci sta sopra vedo la final il cofanetto della fine kenshi niru yasha 20th century boys monster naokirasawa qua c'è l'elush questo è kaguya vedo naruto evangelion questo è leva 0 6 se non sbaglio manga di evangelion in giapponese qua dietro claymore la nuova edizione rial vagabond alita slam dunk con un bella namici no figo però figo figo bello così pochi ordinati oddio foto che è successo otto foto e non 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 ci sono non ci sono cesso qualcosa sono trasparenti vabbè comunque parere su quello che riesco a vedere qua tantissima roba anche se è poco ma in realtà non è mai poco ragazzi è bello sono cose che ti piacciono messe qua anche con con le statuine per per dargli un senso è figo bello bello mi piace sono pochi ordinati ciao mister bonnet grazie di quattro mesi si fa quel che si può ah questo è stripe one eccoci 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 ma poi dove vive dentro una metropolitana stripe one vive dentro una metropolitana ragazzi ecco qua allora devo dire che a primo impatto non è male oddio ma qua c'è un suicidio c'è un kendama cose varie di genshin ecco dei giganti forse un po di pokemon cose varie dei pokemon fulme dall'alchemist uno dei suoi preferiti si vede si vede leggerissimamente perché tipo sta dappertutto tutte le edizioni i pluray tutto pokemon un botto gengar il suo preferito si vede naruto ma perché non c'è il manga dei pokemon scusa a sto punto ci vuole da qua va impazzito con ganger tutte le carte ma qua dentro stanno tutte le carte ma andai il demo adesso rosichiamo e se ci fa vedere le carte la camegakill poi vedo altra roba devil man top però insomma c'è bisogno di prendere l'omnibus è io chan shaman king spy family bello bello vediamo un po con i particolari questa è l'altra parte invece che sarebbe la non è manco più una scrivania cioè è un posto per metterci roba guarda qua a parte gli scatoli dei camp la dei modelli berserk qua c'è tutto berserk la deluxe i bagelit una collezione infinita di clipper un po di statuine ah questo è senza nome che se metti la monetina se la mangia qua sotto vedo carte gradate bustine di pokemon è veramente un caverner cioè come come fa a vivere qua di è come me sono fiero sono fiero orgogliosissimo da qua poi c'è miku c'è rei c'è ryuko come faccio a non essere fiero di tutto questo poi ci sono i dettagli questi non si notavano kaiju moriarty fire force one punch man shangri la ghost girl danda down tutti belli tutti belli quintessential quintuplets qua c'ha marshall mursy lago anako kun demon slay platinum man dragon ball tokyo gold i scroll the dead bellissimo ma quante copie c'hai della variant di quintessential bastardo made in abyss poi questo è chiuso che è questo nella plastica tokyo nanki bello 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 qua sopra i robottoni ah c'è la trama di un gatto sul kendama netto living cut vedo giù giù qualcosa dei pokemon non lo vedo un po di giochi vari c'è un dragon ball c'è un dvd su di favij boh non voglio manco sapere qua il game boy advance graudon chiogre c'è anche madgip ecco qua nella scatola è incredibile un po di ordine non guasterebbe ma guarda che questo è l'ordine latte più te non capisci un cazzo te non capisci un cazzo te non capisci niente questo è l'ordine guarda che ordine magnifico guarda qua guarda che bello guarda che bello parte che vive in una metropolitana e questo cioè wow questo è bellissimo avrei voluto vedere le carte avrei voluto vedere un po di carte ammetto per rosicare un po 10 più 10 più stripe one rosa scolorito ci dice c'è molta roba dietro che non si vede ma si fa quel che si può ps le teste di moro sono di mia madre ok sono bello stessa allora è un mobiletto mobiletto con un paio di cose qua c'è berserk sopra yugioh evangelion pun pun 20th century boys in ugasce dr slump dragon ball bellissima questa qua di dr slump figa spikes family vedo questo dovrebbe essere toriama world poi dragons made un po di berserk pofanetti your name il portamonete a forma di ranocchia madonna mia questo uno dei gadget più venduti in assoluto la variant di myra academy bravo 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 veramente top è bravo sono contento vedi oscar la vecchia edizione che sta qua bello che poi queste sono palesemente le sue ginocchia tipo un mobiletto che da qualche parte sta seduto con un po sta seduto per terra da un po ottimo pezzo in realtà le teste di moro posso consigliare una disposizione ormai non ce vanno più qua dentro bisogna trovare un altro posto ma le teste di moro messe non così ma ai lati con al centro qualcosa che può essere il numero speciale la varianta varianti berserk un numero di berserk messo qua secondo me valorizza pensaci ti do questa questa dritta rosa scolorito sono molto contento di questo libreria di jupitrain risistemato tutto qualche giorno fa ma non l'avevamo già vista mi sto flashando anche il fatto che dice risistemato tutto un po mi fa pensare comunque persona 5 royal ciao x black queen ciao ciao ma il accademia bello poi abbiamo un po di azzu nemico la mia preferita in assoluto c'è dangarompa poi pokemon tutta forza anche i fumetti sono contento dragon ball berserk chainsaw man shaman king l'attacco dei giganti tantissima roba qua killing stalking poi evangelion vedo che quella ci sono un sacco di bei pezzetti tipo questa statua era pop up parade di eren data dietro vedo un po di orecchini vari pico sopra che c'è sta sherlock tokyo gold dr slump sakamoto dei sanako kun bakemono gatari e anche i diari della speziale continuano i diari della speziale che è bellissimo poi vedo soichi pop di pop sparsi in giro anche quattro e pop alla varia no questa non è la variante giusto è l'elezione regular credo di sic credo e di nabis invece la varia sono un sacco di numeri 1 a bello c'è anche spiriti giapponesi è tanta roba questo anche qua mi sa che la variante che ci sono tutte variante qua quindi deve essere la varianti love sick death questa sì sì penso siano tutte variante quindi sarà la varia adesso non focalizzo bene ma poi dove ha preso sto coso con il dio di questo tutte cose di pun pun dove le ha prese quello è dio di pun pun è un pazzo dove le appigliate queste top sono carine bello bello c'ha personalità mi piace molto si vede che sono le cose che gli che gli vanno a genio che le colleziona da tanto e proprio le vive si vede bello mi piace molto bello molto bello anche questa si piglia un bel 8 pieno 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 pia response mall colleziono da due anni e ha preso berser fire punch chainsaw man dragon ball dragon ball super sono poteva risparmiare jojo tanta roba sono stone ocean e steel bull run stone ocean non è tutto però omunculus bellissimo berserk devil man e tu frate tanta roba dai hai una bella collezione hai dei bei fumetti veramente dei bei fumetti molto semplice quadrata pratica buona è di 96 forse letti metà volumi ciao cave va bene forse letti solo metà basta che non fai la fine di arcanthos madonna ma poi sono 19 foto oddio oddio non mi ero reso conto di quante fossero porca troia eccoci ragazzi pronti prontissimi vabbè qua c'è one pisser yuko 17 io sono shingo tanta roba qua ci stanno quelli di vincenzo filosa è proprio degli insetti umani cioè questo è il principe norman osamushi metropolis lost world un anno taniguchi questo è tutto taniguchi qua c'è sta l'art book di hoshimi questa è la roba di kamimura e noi takaiiko illustration bello future boy questo pure tanta roba questo è l'elite l'elite la parte dell'elite eh ma qua ci divertiamo questo c'è un sacco di roba nana di kofanetti non sono un angelo poi come si chiama questi cortili del cuore ultimi raggi di luna oddio anche questo come si chiama buffalo five girls c'ha milionarmi di queste mo yoko anno happy mania sempre mo yoko anno e mori di un centiluomo che ti manca di mo yoko anno forse questo non è il mio corpo ha anche insufficient direction pure quello effettivamente dovresti prendere qua che c'è fabrica attacco dei giganti vedo la steelbox il mio asano tu tutte te 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 demon the dead destruction tanta roba poi quattugliore eternity hai maison reiro can tu sei un pazzo tu sei un pazzo squilibrato tu sei un folle sei un squilibrato come fai ad avere maison reiro can come fai come fai sei un pazzo per averlo come fai mi manca quello si fra sei un pazzo un pazzo ma sai che questo ci metto ce l'abbiamo solo io e te ce l'ha nessuno in italia per non farti sentire solo ce l'abbiamo solo noi anche perché l'editore è morto nel frattempo ma quanto cazzo è bello troppo bello akito tomi il maestro nel disegnare le fregne top culi si 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 anche top piedi non ce ne sono tanti devo dire la verità però sarà lunga commentare tutto questo ragazzi lunghissimo eccoci angolo dragon boh angolo toriama mancano un botto di cose prossima volta che torno qua voglio vedere i classiconi vabbè c'è dragon boh c'è un po di dottor slump necomagine qua c'è dai la grande avventura oh questo è rush questo è un pazzo un pazzo qua ci sta sitianta level e io degli spettri nuvia c'è un main o tori questo è accennata la strega kamen akita boke rosso henshin formata alchemist bello gaekiman bravo bravo leggilo tutto ma questi sono tutti a cazzo qua sopra che stai leggendo questi forse qua sopra vediamo che c'è agente 008 twin star exorcist naruto shaman king ah le card bravo bravo stai collezionando tutte le card vedo mai raccademia vedo i cofanetti tanta roba qua c'è un po di one piece vediamo slave bravo di gremen bravissimo qua chi c'è anche il bruco devono rifare se non sbaglio o l'hanno già rifatto in questa edizione nuova e cogonino ha fatto questi nuovi libri di suo hero maruo molto belli saru saru di dai su che i garashi spirit in the sky bellissimo witches questo è uno storico eddi sei uno storico perché per andare a cercare trovato tutte queste sei uno storico blam pupazzetti di animali ecco questo siamo io e te tu sei tu sei il cagnolino tu sei il pastore tedesco io sono la riete tu devi guidarmi no in realtà so io che guida a te fra due p zero grazie mille dell'abbonamento nausicaa stupendo akira planetes vedo però le chicche qua ci sono le chicche a i manga di keiko ichiguchi ti manca il primo manga di keiko ichiguchi perché tu sei cornuta ti manca mi sa di keiko ichiguchi il primissimo manga italiano che mi pare sia porte di keiko ichiguchi mi pare oltre la porta e ho detto porte vabbè oltre la porta questo qua signori con non so se questo era il nome vero keiko sakisaka non so se il nome vero di keiko ichiguchi e ichiguchi è poi diventato il nome d'arte non mi ricordo però vedete keiko ichiguchi poi mi ricordi dei giovanni e rossi con le storie dei k boys questo qua ce l'ho questo è il primissimo in assoluto manga italiano ciao matilde tanta roba però vedo che hai anche memorie di otomo bella chicca qua ci stanno un po di giungitate un po di kentaho miua no io sai che non lo comprai tutto all rounder meguru vedo che l'hai comprato a pezzi perché c'è la pellicola qua non lo comprai tutto forse ho tipo il numero uno e poi ho detto ok non lo leggo perché volevo leggere eden ma costava troppo quando era un ragazzo cominciò ad uscire questo nuovo manga ma non era di fantascienza e dissi vabbè mi sono rotto il cazzo non leggerò mai irochi endo invece lo sto leggendo oggi l'ho letto con soft metal vampires planet of the fools l'hai letto planet of the fools ne ho parlato malissimo l'altra volta perché il finale veramente anticlimatico proprio il finale più brutto di sempre non so se l'hai letto se l'hai letto dimmi che sta susano shimma odante qua ci sta questo qua panty ma zinger angels bello devil man saga devil gacky man cute ione manca un botto di roba di conagai anche della roba pubblicata da j pop qua devi impegnarti entail pet mother cause bellissimo anche under water è molto bello sono qua dietro non si vedono ma c'è sta ikari club il club della luce assurdo suicide club samaru furuia c'è tutto forse si mi sa ti ho fregato amico mio ti ho fregato ti manca questo amico mio ti manca 51 modi per salvarla di usamaru furuia e lo squalificato vabbè lo squalificato si recupera a trovar si trova recuperare tutto conagai e tosta e si sta parlando di te e ikari eh lo so non è impossibile recuperare tutto quello che è uscito di conagai comunque qua una libreria di tutto rispetto showa i fumetti di in your face comics bellissimo di dashino la corte dei demoni le memore di emal mamma è bellissimo bellissima sadora pluto 20th century boys blue giant crime freeman million game toy beh però qua allora qua dietro vedo yuta yuta nova così si chiama se non sbaglio devil ecstasy bellissimi boys ebbis prima dell'estate die dark gunslinger girl uno dei miei preferiti il mondo di run uno dei fumetti più belli del mondo la nord ovest bello poi qua ci sta tutto shuzo shimi tutto il resto del mare dentro mari drifting net caffè happiness avangardi yumeco tracce di sangue bellissimo io non c'ho un cazzo non c'ho niente soltanto tracce di sangue poi questi che sono delle merde incredibili ma super divertenti per me yuta nova e devil ecstasy sono i fumetti tipo più belli che ha fatto anche avangardi yumeco io li trovo divertentissimi li adoro la gente dice ma sono i trash di hoshimi cazzo sono la fine del mondo eccoci fra crono guerra ma io ce l'ho crono guerra ma tu ma che cazzo dici fra ma di nuovo ma ce l'abbiamo io e te crono guerra ce l'abbiamo io e te sembra di guardarsi in uno specchio guardando questa libreria sembra veramente la mia ariadne c'è a furu supplemento vedo qua belle le cose di mario kazagi lei mi è piaciuta subito con queste storie brevi l'ho scoperta dopo medinabis cedrono the whales bellissimo noin si do ichi esp cappei domani il pranzo sei tu qua sei messo l'autore di dmc qua dietro però ti manca dmc lo sei messo qua dietro per ride tutto insieme manca dmc io lo incontrai l'autore di dmc mi fece pure uno sketch è uno di quegli autori che dice ma questo fa solo coglionate però fa coglionate divertenti eccolo qua kiminori wakasugi il più forte l'invincibile kiminori detroit mi manca purtroppo non si trova il numero sette devi pigliare devi pigliare fa tutto a sushi kaneko bello land of lustros mi piace molto anche a me gift ma siamo arrivati al 5 di gift merda io sto a 4 l'ho preso il 5 non mi ricordo cinema ah hanno annunciato adesso il 3 di cinema abbiamo visto prima sky questo bello di nobore rocuda ma di rocuda c'è solo questo di rocuda devi recuperare almeno billy the kid cosa ne pensi di sao mi piace molto tante persone lo bistrattano ma mi piace un bottio nobore rocuda oltre billy the kid anche leonardo il leone che dorme è molto divertente da leggere f motore in pista chiaramente se non ce l'hai vabbè dash capei però se uno vuole leggere le storie un po più impegnate di certo non si recupera dash capei nobore rocuda è uno di quelli proprio stranissimi tipo ha fatto sto cazzo di fumetto che da noi è famosissimo gigi la trottola uno dei personaggi più famosi in italia in assoluto poi ti leggi gli altri fumenti che ha fatto tutti seri impegnati bellissimi un fumetto scemo divertente voglio dire adesso cose abbastanza serie beyond clouds continuerà mai e bu chi lo sa mister uscirà un botto di roba sua per igari nei prossimi mesi stiamo a vedere dragon maid a dragon maid ti mancano la regola e l'altra varia dan da dan abbiamo famiglia bellissimo a kebi bellissimo beyond clouds bellissimo ma non continuo friaren la fine del mondo è nascosto qua dietro di me friaren the cure avengers idea della speziale small down the highway bellissimo ragami pure questo è stupendo nagatoro tanta roba ma che c'è curo cane ma dietro e sing yesterday for me eh sì perché immagino sia tutta roba della tome dio questo com'era oddio questo ma questo ce l'ho pure io non mi ricordo come si chiama con quello che sta qua dietro non mi ricordo vita la cavia pure con lo cane bellissimo e qua ci sta come dopo la pioggia di maiozumi izzugino uta bravo il master bravo con l'un bell under ninja e amairo marco soft the library sta a me a sentire prendilo tutto prendilo tutto vedo che c'è anche qua finché è morto non ci separi tantissima roba molto bravo molto bravo dead tube che sembra una stronzata in realtà è divertente roscino co darling the franks donna santa qua dietro il casino totale prison school land dunk climber roba della bow mars cesare bravo bravo che c'è cesare il creatore che ha distrutto salve ma lei è cesare dove sta eccolo qua questo è l'ultimo il 13 è l'ultimo si è finita finita finalmente dopo dopo dieci anni è finita dopo una vita è finita è sparata e stigioni della sposa shirley bravo bravo c'è shirley ma ma emma c'ho emma dove sta ride out gene x apposims bellissimi vabbè poi conan skip it bello bello grandagi deep vacation strategy giants caro fratello questo è bellissimo moto agyo soliter gon fantastico kondo akiko questo pure è bello eh questo qua pure è bello vedo amonsaga vedo cavalieri cavalieri dallo suddio maron tutto karaguri circus eureka ma poi è uscito altro di eureka non mai capito i storie di tosh iwaki bello vedo ai chi ho qua sotto eureka buh sarebbe sarebbe da recuperare questa roba di iwaki che mi è piaciuto molto chi sei giù ma tipo io c'ho i storie forse anche eureka da qualche parte non ho mai capito se con se ha continuato oppure no attenzione qua scandalo questo è school cast attenzione ma qua ci abbiamo ci abbiamo dei pornazzi dietro c'era del can crono crusade bellissimo smoking paradise a l'imperatore del giappone a febbraio escono i numeri 3 e 4 jk aru terrarium jean man qua ci sono tutte le cose nuove guannibal dagashi kashi call of the night bravissimo belli questi sayuki questo pure bravissimo ah qua dietro i miei porno preferiti eccoli qua tutti i grandi formati i piccoli non ce l'hai questi sono tutti i grossi nanatoka oru mi pare giusto mettere tutti insieme sotto vedo chainsaw man fire punch dragon head eccoli jagan rg veda le clamp proteggi la mia terra oddio quello è zetman holy land destroy e revolution mio fratello goji mori mio fratello goji mori top frisia pure oddio colpo mortale questo beccino e mandala mai mai letto altra roba qua clinica dell'amore poi qua holy moon frase un pazzo fra di holy moon fai attenzione fai attenzione di holy moon c'è il numero uno variant voi non avete idea di che tipo di variant sia però allora questo è holy moon magical girl holy moon di saito e sato questo è il numero uno e questa è la variant variant con jada robin fra l'altro una delle variant più brutte che abbia mai visto veramente brutta la potevano fare una foto più bella voglio dire però è un'idea è un'idea non brutta l'idea non brutta la foto è brutta il destino di kakuko exo school zero qua dietro che c'hai qua silent mobius ma tu sei pazzo in capa non l'hanno mai finito silent mobius uro tsuki doji sister generator qua ci sta tutto 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 samura è la ragazza ananas bontobioner no aspetta cosa manca alla carazza di blood harley hai preso quello giapponese che in sé trovava il traslogo vabbè manca di er diego er dirger e po boh non so vabbè l'immortale ci sta una domandina mi consiglierei di prendere una nuova edizione di eva in passato ho visto solo l'anime niente film e non mi era piaciuto molto ti dico di sì se non ti era piaciuto tanto prendi il manga perché il manga c'ha diciamo una direzione diversa anche delle caratterizzazioni diverse per i personaggi quindi magari te va a piacere beastars bota bota promised neverland my dress up darling oddio questo l'avevo preso ma mi ricordo vedo che qua haruki è di casa eh ah no ci sono i pornini piccini vabbè c'è solo taio taio però qua abbiamo magine devil oddio ma ce n'era un altro cazzo cazzo dio great c'era un altro porno che non ho mai preso merda mai preso mai preso io ho solo questi due ti manca engine room ah no questo è ancora un altro allora e come si chiama questo junk story cazzo ne fecero quattro allora io ho naked star ed engine room e questo junk story boh porca trolle devo trovare uno che li vende entrambi non non ce l'ho ragazzi non l'ho mai preso ma sono un coglione minchia quanto vuole questo un bot rakuten 87 questo deve essere un fratello infatti che ci asciamo i giganti del mare questo l'avevo preso recentemente wizard island top mostra tutto vediamo che c'ha e vabbè ma sarà questo nient'anni al demonio devo cedere a dei ricatti questi sono dei ricatti di vecchiatti 253 eccoli ce l'ha tutto e qua ecco qua popopopu hot detective zubaki poche c'ha pokémon trading card game angels sexual boys and girls high school story high school story boom ma è già in robò questo non era niente ma tutto a star wars legends o che si vede nei ritorno del rai per ps2 is my master belle statuine per farsi le seghine no point blank bellissimo per averlo astral project pokemon rosso originale 40 euro tosh cassato angulo tosh cassato fra il santuario questo non era male questo pure per collezione lo prendere dark cloud bellissimo sta risvegliando dei ricordi sopiti in me ma lui c'ha un sacco di rpg guarda c'ha pure agarist enchanted arms ragazzi quanti hanno giocato a larry alzate la mano chi ha giocato a larry non ricordo ma come ragazzi larry troppo bello non posso farlo vedere è un gioco sporcaccione culo bannato io allora troppo divertente doppio che ci ho giocato io grazie allo spam di steam io mi cacavo sotto ogni volta che mia madre entrava in stanza e per forza un gioco super sporcaccione bellissimo bellissimo white knight chronicles pure questo era bello the zone of the enders fantastico ovviamente vabbè dragon quest 11 ciao proprio giocone lo vende a 15 euro ma un cazzo allora se non avessi l'undici s installato sulla ps4 lo comprerei oli brownie pokemon pinball quando rambo roses magna carta ma c'è un sacco e questo lo sai che è raro da trovare l'hobbit 12 euro lo trovai usato tipo a due euro 2 3 euro una cosa del genere lo giocai anche in live il gioco dell'hobbit sulla mia ps2 silver slim ps2 slim silver si mette gli anelli la terza era per ps2 demon chaos si mette il tesoro questo sarebbe da andare da lui e dire senti no questi prezzi no io ti do 8 soldi in mano tutti quanti 139 zippa però queste sono belle queste sono veramente belle da avere classiche molto erotiche fighe bello eh devo devo prendere delle cose vabbè vabbè comunque qua c'è sta che c'è sta i miserabili ghost girl chi io chi io qua dietro questo è un bellissimo volume unico forse lago boruto vedo poi c'è sta storie di un tempo lontano questo è pure bello devi cercare i racconti del bar miraggio di leggi mazumoto interessantissimo poi vedo il pene del senpai divertente bello bello forse letto metà volo fra leggi di tutto il resto che bevi a mano del capo al peperoncino frankie joe star tra l'altro io ti conobi proprio con la recensione che facessi di naked star penso dieci anni fa ormai fra veramente la vecchiaia veramente la vecchiaia tra l'altro quel video non mi è mai stato buttato giù però credo credo sia limitato credo sia limitato per gli adulti forse mi sa quando l'ho fatto sto video mamma mia proprio vecchissimo vecchissimo 30 novembre 2009 ma quale dieci anni fa fra ma quale dieci anni fa ma magari dieci anni fa porca troia 14 anni fa 14 anni fa porca troia ma poi perché era soggetto ai limiti di età non ho fatto vedere molto comunque guarda qua sto cazzo di video vecchissimo brah ciao ragazzi sono caverna di platone e oggi volevo recensirvi naked star di ogre passiamo rapidamente alla scheda tecnica allora naked star di ogre inserito nella collana you collection della flash book una collana che ci presenterà solamente storie dedicate all'eros molto incentrate sulla pornografia quindi delle storie riservate a un pubblico di soli adulti e qualità infatti in qualità lo troverete completamente andiamo a sfogliare naked star cercando di essere il più pudici possibile mamma mia che una qualità orrenda proprio girato il video ma non si non si non si riesce nemmeno a vedere dove stanno le tette la fica ma io non si può vedere niente perché è così sgranato che non si riesce a vedere un cazzo si vabbè boh urge remake di questo video hai un accento diverso sì 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 era era prima di specializzarmi in 14 anni sembri più giovane tome sì sì io ringiovanisco ma più vado avanti più divento fresco sono nato vecchio su come benjamin button capi comunque tornando alle librerie wow wow questo è stato fra veramente top sul serio hai un sacco un sacco di bei fumetti allora diciamo che principalmente tutta roba moderna e shonen ma ci stanno anche un sacco di bellissimi fumetti autoriali e poi tu ti sei fatto una grande ricerca di tutti i titoli di alcuni autori specifici e questo veramente la rende una collezione di tutto rispetto penso che in generale il fatto che sia principalmente pieno di roba shonen è soltanto dovuto al nostro mercato che fa arrivare quasi solo quella roba la però ti sei cercato un sacco di cose vecchie hai recuperato nell'usato bei pezzoni in generale ci sono tanti manga seinen per adulti anche i seijin bei formati in generale sembra veramente una ricerca storica e filologica quella di questa libreria mi è piaciuta mi è piaciuta un tutto veramente tanto questa è da dieci top capi ho appena pubblicato la mia libreria e allora se l'hai appena pubblicata penso che non riusciremo a vederla adesso anche perché ragazzi noi tra un po dovremmo andare da un'altra parte e ve lo dico cioè che stanno già facendo settaggio di tutto eccetera io non sto facendo un cazzo quindi ci fermiamo qua dove si va a fare in culo ciao